alexia izanka dalla latvia capitale della latvia riga come quella che non dovete farvi consigli che cosa intendi la ragazza di riga che avete conosciuto su su tinder io non ho tinder allora e 4 e 5 questa non ha ancora un nome definito vediamo se sarà gambetto italiano o altro esatto credibile credibile il danish gambit hai avuto quello che però però con donna per d4 pestalo dai allora in genere questa ok però adesso facciamo il cavallo f6 perché di solito mettono in pre move queste mosse e quindi e lui non ha messo quindi stai peggio è una transp e qua fa la donna e 3 e io non so niente di questa però b6 subito a cambiarla fiera minacciare un triplice forche tausner qua così ma proprio spinge il pedone si può anche fare cavallo c3 lui vuole fare cavallo c3 roccare lungo l'abbiamo già sgamato sto sto latvo sai che ci stavo pensando anch'io a b6 perché liberi casella per l'alfiere minacci la sua donna e sei pronto ad arroccare non male stai soltanto perché non trovo un forse anche g6 ci poteva stare se g6 beh puoi fianchettarli entrambi fare una partita così però non so mi fa molto strano giocare al fiore b7 non so perché non penso al fiore b7 qua non so vediamo vediamo il fiore c5 intanto perché avrai consapevolezza della posizione che ne so forse non c'è io dopo questa mossa non dico che la faccio in pre move ma aspetta aspetta che ci può fare un un barbabietola torre 8 la para no si cavallo 8 torre 8 qua dici puoi tornare anche indietro di alfiere sai che stiamo malissimo secondo me secondo tutti no anche alfiere d6 no però blocchi tutto il piano infinitato effettuerai torre 8 f3 è veramente una schifezza sta posizione ok lui non è che brilli di luce propria la sua posizione va detto spariamo d5 come i veri uomini let's go let's go ah no aspetta che c'è sempre alfiere h6 in the air alfiere in h6 is in the air sembra veramente una mossa suicida d5 e cavallo e 5 non che faccia qualcosa però puoi riportare in difesa si ci può stare ci può stare ma la mia risposta è no no vabbè ci sta ci sta ero solo curioso di sapere cosa pensavo si si no ci poteva stare dai crepi l'avarizia ehm adesso lui diva subito alfiere b5 pre move no no va bene va bene ogni tanto ci può stare fa un po' di colore ricordati di mi pare allora bash sto boucher qua ieri l'ho sfidato a bullet si è preso un 3 a 0 e ha dato la colpa al wifi palestinese capito lui sta in palestina ora beh allora ci può anche stare patetico comunque come scuse posso dire io capisci quello che dici si ok qua siete in inglese no no olha ombash sono abbastanza in confidenza da potermi permettere queste battute salutiamo il pombash Basch, sei ancora... sei ancora... al tuo paese? Eh si, per forza sto mosso qua Questa è obbligata Tutto esplorato Com'è Basch? Allora, alfiere B3 A5 Allora, A5 E però poi comunque in realtà lui ha due pezzi A5, A4 e poi gli molliamo la torre Minchia Chiaramente, se dobbiamo fare una cosa facciamola fatta bene Ho sbaglio? Lui ha anche un pedone in presa in questo momento Sì, però... Prendergli sto pedone... È rischioso, sì, sì, sì Sì, abbastanza Facciamo A5, A4 È vero Ma che... Sti occhiali comunque... Invisibili Invisibili Pausa i miei, metto io quelli, dai Ma sono appannatissimi No, fra, sono distrutti dal sale Qua sono tutti sfrisati Posso vedere come mi stanno? Aspetta Faccio così tipo due secondi Beh, tu hai un drip... non trascurabile Mi stanno malissimo, frate Dobbiamo dircelo con grande chiarezza Sì Ok, allora A4 la facciamo perché abbiamo fatto 30 Io non lo farei mai però C'ho stra paura io a vedere sta mossa Mi ho preso da tutto Ma è ora di mangiargli quel cazzo di pedone Questo? No vabbè, quello non puoi Ah, questo dice Eh, però è still pericoloso Sì, rimane... Però poi hai questa Attacchi qui Sai che... Io sono appena entrato nell'hyperspace Questi occhiali Ma qua... calcoliamo Perché non stiamo calcolando? Me lo spieghi? Non ti piace Cavallo per... Cavallo per C2 in fe... No dai A4 va fatta Va fatta A4 Cavallo per A4 instant Ma tu sei pazzo Questo... Questo uomo è fuori Si è appena beccato una cavallo per C2 che se la ricorda Se la ricorda perché vincerà una partita incredibile Contro un maestro Fide Maestro Fide gioca a cavallo... Fa malissimo questa Ruff Aspetta cavallo A2 Anche... Compare l'idea cavallo... Cavallo A2 che può fare Rebby 1 però Cazzo... 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 Opea... Allora Mi hanno appena detto maestro Contattare Nepo non vale CG Botanic Grazie mille per la sub Number one Uno di noi Un fratello Allora su questa Cavallo per c5 Questo è il grande Problema del nostro tempo Ma sai che c'è Ruffo Dobbiamo farla Non è che ci possiamo girare troppo Quel cavallo morirà però in teoria Perché tu adesso gli mangerai l'alfiere Allora lui prima Prima mangia qui e questo è il punto A me questo alfiere serviva Comunque Giozza 8 Giozza 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 Beh giozza come i ravioli Non come quello che pensi tu Cioè cosa che penso io Una giozza Hai giozza Ci dissociamo Con i nostri Però ma sbaglio Hai un pezzo in meno Sto per perdere un pezzo Cosa ho visto Ha perso Ha perso Cavallo a uno Mio fratello Cavallo a uno Incredibile Incredibile sta mossa Non può spostare il cavallo Perché parte questo Raga il cavallo in uno Cioè Mio fratello cavallo a uno Lo davamo già per disperso Allora Voleva andare in vacanza il cavallo in a uno Non può fare niente Per tranne uccidere Che poi Poi poteva fare il cavallo di qua Era molto meglio Era molto meglio Infatti era lì che ti dicevo Però Non hai visto che ti è fatto così Ma come no Perché tu non ascolti Chi ha meno di duemila punti Però vuoi mettere cavallo a uno Cioè Cavallo a uno Cioè Cavallo a uno Ma cambia qualcosa Cavallo di quattro Qual era il vantaggio di cavallo di quattro Fa molte più cose Poi Cioè copre anche questa Non lo so Non lo so Però cavallo a uno Non mi dispi Cioè Nella disperazione totale In cui ero Venti secondi fa Cavallo a uno Il tema sai qual è Se lui fa Alfiere a due Quel cavallo è morto comunque Dopo prima o poi Te lo mangia la correa Scusami Se lui adesso fa Alfiere a due Il cavallo comunque morirà E intanto Vai tu attormelo Quello Ah no Perché tanto tu puoi tornare sempre indietro Vero Eh ci sta in realtà Eh no no Ma siamo in una botta di ferro Poi c'ha 280 Questo dai 280 di ero Ops 280 Cavallo di quattro Non ha problemi Attenzione Cavallo di quattro Non ha problemi Con alfiere a H6 Vero Però c'è sempre cavallo H5 È sempre un po' sporca La situazione Cavallo H5 Mangio questo È un delirio raga Non lo so Non lo so Non lo so È una bella posizione in realtà C'è Tu in sta posizione Mi droppi cavallo H3 Questo è un pazzo Mangio questo Minaccio matto Ok adesso qualcuno dirà Eh vedi Se avevi cavallo in D4 Dovi matto in E2 Però non avrebbe fatto cavallo H3 Certo Tu salva il tuo cavallo innanzitutto Non è neanche necessario Forse ora No no ma adesso Stiamo giocando per lo show Z Non può attaccarti con l'alfiere Ma in realtà Non stai così male Das is the show time Lui ha un altro pedone in presa Ah no Z Cioè Se sta per succedere questa cosa Io Impazzisco Diamo la donna Z Diamo la donna Ma c'è un modo per dargli la donna Ah mangiando il pedone Io vorrei fare donna per D5 È chiaramente too much Lui mangia 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 Minaccio matto qua Ha circa 16 modi Per parare questo matto Calcoliamoli tutti Allora niente Niente Dai dai Facciamo i seri Eh basta Questi occhi mi stanno spaccando gli occhi No Sento il mio punteggio E lo abbassarsi di 6 punti Se li tolgo Beh se perdi sono molti di più Dai Allora Devo coinvolgere la mia regina Allora Beh ma se facciamo un cavallo per D5 È una mossa troppo standard La posizione è troppo strana Però non è male Cioè Boh non lo so zio ti giuro Qual è la situazione Vedo un cavallo per un alfiere Ok Ma tipo donna D7 idea Donna A4 Vabbè Facciamo donna D7 intanto Solidità Per i raga Sì Comunque Filtrano un botto di luce Tutto Desumo sia il loro obiettivo No ma raga Il cavallo in A1 sta bene È questo che non capite Poveri stolti Può minacciare matti A destra manca Sì l'importante è che tenga Cioè Il fatto che tenga B3 Cioè che minacci sempre cavallo B3 Urca Con questo Con questo tema Mi dà una Valangata di opzioni tattiche Cioè praticamente puoi dargli anche la donna In certi Tipo qua puoi dargli la donna Esatto No la mia Una delle mie prime idee è stata Fare tipo così Donna D7 Così così E fare donna B1 Boom 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 Matto Però Però lo può difendere Sì Vabbè infatti Non credo che la posizione sia vinta In questo Raga Le 25.000 persone Che stanno proponendo torre per A3 Come hanno intenzione di proseguire Cioè è bello dare le torri Però Cioè tra l'altro Dopo B per A3 Non abbiamo più il tema così Perché il re può scappare in B2 Quindi Boh Cioè Se avete qualcosa di concreto Sono pronto ad ascoltarvi Però detta così Boh per il meme Simo Pannato Donna B8 Torre Esatto Tipo cavallo pazzo Ha detto la cazzata Lui dice Donna B8 Torre per A3 B per A3 Donna B1 Presa Cavallo B3 Soltanto che non è matto Perché adesso può andare in B2 Cavallo pazzo Bannato Sei pazzo Pure lui Lui ha giocato alfiere C3 Alfiere C'è due minuti Stai un attimo Questa è una bella partita Stiamo Stiamo schisci Però adesso torre 2 Mamma mia che male Che gli facciamo Mi dispiace proprio Adesso torre per A3 Forse ha un senso Perché mangio Donna A4 Ma la vera domanda È perché non Donna A4 subito O perché non torre 2 Esatto Tante domande Ma sai cosa Lui ti sta comunque Minacciando quel cavallo Cioè Torre 2 Ok E poi Devi spingere Torre 2 Torre di 2 fa 100% Perché se no Gli dai matto Eh sì Posso fare per Ma forse mangio Di re Non posso mangiare Perché c'è il matto Qua dietro No niente Ho troppo poco tempo Dobbiamo impendere Tipo alfiere g6 Così smorzi Tutte le possibilità Perdi un tempo brutto Un po' No ci potrebbe stare Però sembra un po' lentina Sì Eh sì Molto Poi te lo può attaccare Col cavallo Però così Donne F5 In realtà non è male Facciamolo Zì sai che ti dico Sta per succedere Sta per dargli Sta per succedere Una cosa Fantastica Beh se dai la donna Un'altra volta E vinci Io non solo darò la donna Ma squarcerò Lo spazio temporale E poi si creerà Il cielo aperto Esatto Se scorci Il cielo stellato Sopra di me La legge morale Dentro di me Come diceva Gandhi Non ha 4 Forte Incredibile Bellissimo No la mia idea È che su alfiere per f6 Che non so perché Dovrebbe giocare alfiere per f6 Ormai non faccio questa Ormai non ha più senso Con la mossa Comunque Comunque quella Così Esatto Oh no My bishop Matto in una E se fa questa Sì però Alexei Ti prendi tutta la mia gloria Aspetta aspetta Vediamo se abbandona Mi si è addormentato un piede Dal fastidio È la partita Zio Cavallo in a1 Man of the match Mai Bravi ragazzi Domanda per fare il post partita Ma se invece di prendere col pedone in c5 Avessi fatto cavallo b3 Era in presa C'era il cavallo Vediamo Non mi ricordo la posizione In quel momento Ho mangiato un cavallo in c5 No Ah qui Sì Allora così B6 è una cazzata Comunque Allora B6 Novità teorica Cavallo c3 Qua vantaggio del bianco Donna g3 Arrocco arrocco Torre 8 E f3 Che stai peggio Un po' peggio D5 Madonna D5 che va bene È incredibile Alfiore d6 è la migliore Vabbè Presa Sbagliata Cavallo b4 E qua inizia Il circo Alfiore c4 Alfiore f5 Alfiore b3 A5 Ma il g A4 Completamente a caso La migliore Cavallo per c2 Geniale Puoi vedere Torni indietro Bella E poi vediamo se ti suggerisce Di andare in d Cavallo a 1 E la migliore Meno 2 36 E di 53 Sta crescendo E cavallo di 4 A meno 1 E 20 Ma ce n'era una Addirittura migliore Ah Mangiargli il cavallo su Cavallo a 1 Stellina Ciao stellina Si deve mettere Il doppio punto esclamativo Stellina È già mattina Vabbè E quindi Cavallo h3 Lui continua a sbagliare Tu dici X b3 No bx c5 Questa No è la migliore B per c5 Ah tu dici Mangia Mangia Ah è donna per d5 Sì anche questa Era devastante Sì perché poi sei Non ci scacchi ovunque Come ti permetti vecchio Cioè neanche io Mi sentirei insultato Ti giuro Mi ha sfidato un 329 Di elo Come ti permetti Cioè come ti viene in mente Donna d7 Ok Ah è donna a4 Era meglio Alfiere g6 Seconda però Bravi tutti Lui te la mette con Vabbè Lui qui dice ancora donna a4 Però Torna indietro Cavallo h5 È ancora meglio Perché Vabbè ma questa è tutta tattica Così così Donna f5 No E così siamo devastanti Però il buon Il buon frazio Ha deciso bene Di giocare cavallo per g6 Permettendo la fantastica Donna c2 Matto Ciao evan Come andiamo Grande evan Ringraziamo l'exe yanka Per questo blunder Tutto è bene Quello che finisce bene Tutta sta faticaccia Per due punti elo Onesto È superato 2480 Possiamo andare in pensione Su donna f5 Cavallo per g6 Unica Dubito Maestro Mi spiegheresti Quando è buono Giocare c4 Con il nero In generale Nel senso Da quello che so Ma in apertura In molte linee Della francese Ah Della francese E del gambetto di donna Rifiutato Non va bene Chiudere l'atto di donna Con c4 Mentre oggi ho visto La tua partita Con tizze E giochi c4 E la ninzo C'è un'indicazione C'è un'indicazione Generale Su quando è bene Giocarlo Quando no Allora Somus Ovviamente Si entra in un mare magnum Di Conoscenza Conoscenza Che Presuppone un livello Decente Però di base Se tu c'hai Il pedone Il pedone in c5 Il pedone in c5 È un pedone Che controlla Una casella centrale Nel momento in cui Va in c4 Non controlla Più il centro E di base Diciamo come regola È Se il bianco Può fare b3 E rimuoverci un pedone Diciamo lateralmente Spesso Non è una cosa Buona fare È un po' come Nella partita Nostra di prima Come si fa Come si fa qua Esploratore Vabbè vai sul tuo profilo Esatto Adesso ti show Nella nostra partita di prima Questa contro Elect La catalana Vedi anche qua È la stessa cosa Anche il bianco Nonostante il nero Abbia fatto Alfiere d6 C5 È una mossa Che comunque Cioè non è neanche suggerita In realtà Premerà meno sul centro E dopo c5 Alfiere d7 Quando arriverà b6 Siamo un po' Nella palta Cioè In che modo Ci aiuta Nella partita con tizze Non c'era il pedone Perché aveva catturato Era l'inizio indiana Il pedone era già qua Quindi È un po' È un po' diverso Sì perché quello diventa Un avamposto più serio Sì e poi Cioè col pedone qua Fissiamo le debolezze E possiamo attaccare Il pedone c6 A un senso Diciamo Ulteriore Anto b Grazie mille per il prime Bresaola Perfetto Infatti mi pare Che una francese Si faccia c4 Nelle linee di spinta Quando il bianco Fa a3 Si E nella vinaver In queste due In questi due scenari Bella Somos